A seguito delle attività investigative svolte sul territorio di Dainoa e del Comando Carabinieri per la tutela ambiente per individuare flussi illeciti di rifiuti che nei mesi passati avevano già portato al sequestro di un capannone a Moncalieri, nei giorni scorsi, in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Torino, a San Benigno Canavese è stata sequestrata una nuova struttura illecitamente adibita a discarica. L'area, composta da un sale di 350 metri quadrati ed un capannone di 1000 metri quadrati, era la sede di una ditta di commercio online di prodotti alimentari, tuttavia autorizzata in via semplificata la gestione di diverse tipologie di rifiuti, autorizzazione peraltro decaduta nel settembre del scorso anno. Infatti a loro ingresso i carabinieri, i militari della stazione dei Carabinieri di Volpiano, hanno trovato notevole quantità di rifiuti accatastati in modo eterogeneo senza che venisse osservata alcuna regola per lo stoccaggio. Sono così state rinvenute circa 1.300 tonnellate di rifiuti anche pericolosi, come neon, batterie, circuiti per apparecchiature elettroniche, accumulatori, tonneri esausti, prestampanti, oltre che decine di Bix-Bets contenenti CD e parti plastiche di apparati bancomatte elettodomestici. All'esterno del capannone, oltre ai RAE, c'erano diversi cassoni contenenti cartongesso, guaine catramate e fusti riempiti di oli esausti. I militari del NOA di Torino, in accordo con la procura del capoluogo, hanno quindi preceduto al sequestro dell'intera area e dei rifiuti presenti. Oltre a documentazione cartacea falsamente creata lo scopo di esercitare il traffico di rifiuti. Sono in corso attività di indagine diretta a stabilire la provenienza delle diverse tipologie di rifiuti e individuare i vari attori dell'attività illecita.